Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke e benvenuti a questa prima puntata, diciamo una puntata così che abbiamo fatto al volo di Counter Strike Global Offensive. Bene, non sono da solo la mia prima puntata che faccio insieme a... 8.98 Oh, eccolo finalmente, visto che l'annuncio molte volte nei video, finalmente ci sono ce l'abbiamo anche qua in diretta con noi, siamo collegati su TeamSpeak, sul nostro server che abbiamo tirato su un server da pochi giorni, l'abbiamo tirato su, l'indirizzo è ts.svarnak.net e niente, volevamo fare... Spero, scusami se ti interrompo, spero che metterei l'IP in descrizione. Eh infatti, infatti, infatti sì, le mie mani sono ancora in grado di scrivere queste cose e... niente, 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 ok. Allora, volevamo fare una deathmatch, visto che è, diciamo, la modalità di gioco che preferisco, il Counter Strike, e volevamo condividerela con voi. Bene, allora, sto stando nella partita, cerchiamo qualcosa, non so se laghi, non so niente, perché è tutto, ragazzi, improvvisato. Allora, cerchiamo qualcosa. Ognuno è la lobby. Ma che faccia incazzata che c'è questo? Aspect, questa mappa è molto carina, secondo me. No, questa è la mappa dove mi perdo, un'altro giorno stavo cercando un cesso e mi son perso. No, veramente. Aspetta. Allora, round, ah sì, round, round e dieci minuti. Allora, io devo fare le squadre anti... anti-terrorismo. Devo fare la polizia, dai, facciamo così, com'è. Come i bambini. Io faccio il poliziotto. E dai, su. Io sono dentro e ovviamente entro e i miei compagni mi sparano, bello. Ok, ci sono, si sta laggando già un casino. Bello. Uh, ma siamo già in gioco, perfetto, sì, ma io... Ah, aspetta, con B si comprava, no? No, la funzione di acquisto è terminata e non ci sono più marchini in giro per comprare. Allora, aspetta. Oh, senza offesa a chi ci fosse. Gallina, gallina che esplode. Wow. Oh. Andiamo. Voilà, vediamo subito qualcuno che vuole a terra. Oh, ma come ti permetti? Guarda, 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 guarda. Ma si può scaricare adesso la partita? Ma che c... Una partita, sì, la pistola. Andiamo. B, B, B. Allora. Comunque... No, no, io voglio questo qua, il mandarino a canne mozze, andiamo. Il mandarino? Eh sì, perché è arancione, no? Questa qua è la mia bella arma. Il mandarino a canne e lampada. Canne e lampadose. Allora, scendiamo giù qua nelle fogne. Ah no, una pozzana. Gallina? Dove fai, scusa? Sei qua in giro, allora. Cosa vuoi? Eri tu? Sì. Ah no, tanto amore. All folli che esplodono. No, devo andare a vedere il cartello che c'è scritto. Quindi c'è il cartello di te. Proibito del passo, no? Qua è proibito... Si, nice kill, dai. Ma perché c'è per me una volta? Via! Perché è la mia arma preferita, ragazzi. XM 1014 o 1014. Vabbè, comunque 1, 0, 4, 1, 4. Ho riuscito a fare una kill! Allora. Andiamo. Cosa banana? Uh, l'ho ammazzato mentre ero in aria. Cattissimo. Usate un cesso? Dov'è? No! Vedete come c'è il cesso e come ammazzano? No, dai! Ma gli dovevo fare la pipì! Allora. Andiamo di qua. Mi perdo. Perché sono andato allo spawn in un piccolo cieco, vorrei sapere. Perché non avevi gli occhiali, perché sono i piccoli? Allora. Beh, tolgo, gli devo comprare un paio di piappi. Dove sei? Eh, lo sapevo che usciva di fronte dopo qualcuno. X, X, X. X, 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 X. Sì, vai, spara, spara quanto vuoi. Ma perché sparano 50 parti diverse? Sì, vabbè. Fa nient'altro. Dov'è, dov'è? Sono terrorista. Terrorista. Oh, dai, maestro dice... Beh, ma ho ucciso! Dai, dai, sono una schiappa, sono una schiappa. Log in... I'm legend. Log. Voilà, eh, 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 anche lui stava facendo qualche bisognino, vediamo. No, ma non può... Ma no, ma dai, vedi, perché io scarico tutti quanti i caricatori qua. Eh, vai, grazie al cavolo, l'ho ammazzato con la VP. Ho potuto una kill, ma sono proprio pro, mi sento pro, se non ce ne vuoi. Oh, ragazzi, sono nabbo in questo gioco, se l'avete notato. Ok. Sei nabbo? Una kill. Uh, che kill! È di sciotti. È di sciotti! Ma io dovevo ammazzare a lui! Oh, X, 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 mi è stufato, eh. Se l'ha parlato di fare in classico campionato, la partita non facciamo anche a lui in sé. 16 secondi, ma... Sto sudando. Via. È complicato. No, sto sudando perché c'è la porta chiusa e non riesco a respirare in camera mia. Ah. Ok. Ma io non sono qua da solo, non sono l'unico scemo qua sotto. Ok, terroristi hanno vinto. Io non aprirei la porta, io farei un buco nella porta. No, io ero intenzionato a scavare nel pavimento. Allora, cosa scegliamo? Sette shots. Dai, tutti inferno. Inferno non c'è ancora stato. Nether! Bene, facciamo il portale, andiamo. Dai, nether, nether, vai. Bella. Ping 61. Oh, vabbè, dai. Io 128, ma questo. Non così a parte. Dipende quanto era mai. Se hai 128 di RAM, ti metto 128 di COLL. Uh, 128, come i nostri slot. No, dai, davvero, ma inferno non c'è ancora stato io. Inferno è una bella mappura. Me la ricordo. Sì, è questa che mi ricordo io, perfetto. No, adesso no. Dove saranno i cessi qui? Allora, in cessa lo fa un dei terroristi. Eh, dai, 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 dai. Su. No, mi si è bloccato il mouse. No! Ok. Vai, 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 siamo in game. No, dai, mi ha già ammazzato. Ah, sì, ho capito qual è sta mappa. Sembrava la mappa quella Italy, tipo. Ciao. Invece io in Italy non ci ho quasi mai giocato. No, ci ho giocato una volta in Italy, è carino. Ah, ma stiamo già giocando. Io pensavo che eravamo in anticipo, in aspetta, quella roba lì, così che aspetti lì. Ah, oh, eh, che cavolo? Eh, se ne me lo dite? Eh, io ho sparato il mio anziché sparare... No, devo andare... Avp, lui, questo qua gioca solo con l'Avp. No, adesso mi devo riprendere. Via, fuori dalle baile. Dov'è? Oh, vuoi morire, ragazzi. Dai, no, no. Ah, sei tu! Sì. Di nuovo, coriale. Coriandolo, via, è morto. Coriandolo? Minchia, ti immagini se uno è di quelli che guarda i video. Oh, ciao, bello. Allora, tu andavi di qua. Coriandolo, tutta me. Ah, sì, ciao. Sì, minchia, qua c'è la ruminata di tutti quelli. Quanti? No, adesso cambio il fucile. Eh, cos'era quello che prendevo sempre? Un mandarino a carne e lampada, lì. Proviamo, vediamo un po'. Proviamo l'audio, dai. Bene, funziona proprio bene. T'ho 98, mi ho ucciso. No, è comodo perché c'è il San Crispino questo, vedi? Dove ce l'ho fatto? Oh, ce l'ho ammazzato uno. Il San Crispino? Gioca Neo a Farm Simulator. Il San Milino. E hanno trovato un modo per fare in modo che le ruote dei loro trattori non si sporchino mai. Ho capito. Infatti, se fai caso, nella pubblicità, le ruote del trattore sono sempre punte. Vieni qua, San Crispino, vieni qua. Ma io sono l'unico scemo che cammina col mirino attivo. Sì, ma io quando mi sono reso conto di quanto stavo... Vabbè, facciamo questa qua, è l'ultima, dai, facciamo. Perché non mi stavo rendendo conto di quanto stavo facendo sto video? Ma dove sono? Non mi scappa adesso, non ho bisogno di un posto appartato. Allora. Poverino, questa casa ha preso due fucilate. Questa ruota, la terra. Ti schiaccio due volte, è come se corressi tipo Minecraft. Eh no, ma dai, Turion, qua. Ma no. No, io c'ho bisogno dell'XM 1014, qua. Io lo chiamo così, 1400. Ma perché qua dove c'è il cemento mi spawn? Ho capito che... Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete venire, noi siamo quasi sempre su ts.svarnak.net. Mi hai fatto cagare addosso! Ah, affanculo! Ma... Ma che foda che c'è questo! Devo rivedere il video. Voilà, via, ciao! Questo vuole fare il furbo, no? Chi è questo? Ma ce n'è uno lì, spazio tecno. Tu sei spazio stronzo proprio. Adesso mi sono sbloccato. Adesso arriva il bello. Eh, perché c'è... No, no, c'ho... Vado io qua col mio mandarino! Mandarino mimetico! Anche no. Oh. Non sento! Dov'è? Via, ciao. Dove sei? Dimmi, Joe. Dimmi, Totten. Dimmi. Ma stavi parlando con me? Non ti sento più. No, sono da solo! Ah, ti sento, dimmi. Ho 1400 di ping. Ah, vabbè, è poco. Ok, non scelto. Ma guarda qua sto... Sto faccia di... Via! Ciao! Chi è? Chi è? Ma è sempre spazio tecno! Ma questo qua sarà sicuramente in italiano. Oh, ma come fa? Turion! Ma tanto adesso muo, guardate quanta vita! del cavolo che gli ho lasciato. Ah! Via, ciao! In testa! Eh, add shot! Eh! Di nuovo Turion! Ma sta faccia da scemo! Mi... Ma io mi immagino se c'è qualcuno che sta giocando che è uno che si guarda un video. Che è uno che si guarda un video. Ma io col colto par... Oh! Cazzo! Cazzo in fly! Dove sei? Non so, mi sa che devo alzare il volume... No! Di nuovo mi entro sta a casa! No! Mi è venuto dietro! Gallina? No, io ho ammazzato la gallina, poi ammazza lui. Come? Mi sono ammazzati da solo. Mr. Tech, il le Ud... Uco... No, meno meno che ho registrato! Te la devi vedere, poi! Mr. Tech, il le Ud... 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 U con... Con la K-47. Io mi sono ammazzato da solo con la K-47. Ma che cavolo mi spari? Faffanbrodo! Eh dai! Mi pare che volo dal balcone! Logimi Legend! Logimi sto pisiello! Voilà, ciao! Qua c'è qualcuno. Come al solito mi si scarica quando devo ammazzare sto Turion! Dai, tre minuti e zero nove! Ma non sono neanche in classifica io a quanto ne ho ammazzati. Ne ho ammazzati talmente tanti che non sono neanche in classifica. Ciao gallina! Io sto giocando con la pistola perché è il vicino che ho laggato quando sto regando. Dai, dai! Turion, mi sta dominando! Guarda, l'immagine di quelli che mi dominano sembra un telefonino sulle facce. Manco le galline. Chi è questo? Guarda, noi stiamo ammazzando le galline! Guarda! Questo non è il mio compagno. Dai, mi ha laggato adesso! Ma guarda che immagine che c'è questo! Ah, ma quelli l'ho ammazzato intanto. Dai, guarda, sto facendo schifo in queste partite, veramente. Sempre in classifica, adesso niente classifica. Nemici, dove siete? Ho le caramelle! Ho le caramelle! Oh, dì, davvero una dove sei! Guardalo dove sei! Mia, ciao! Oh, come ha detto caramelle, ne sono arrivati 80.000. E basta con questo bordello che devo dormire! Ciao! Ciao! Ma fa... Ti stavo per insultare. Avevo gente pulita prima. Vai, un'altra kill, è bella. Sta salendo di brutta maniera. Io sto sudando di brutta maniera. Via! Ma no! L'ho fottuta la kill! Eh, me è ammazzata a me. No, diceva quello lì, il mio compagno. Ah, eri tu eri, non t'avevo visto. Dai! Sono esploso! Guardi, questo è la WP che si mettono, non mirano e non se ne accorgi che li spari di fianco. E quello è il bello. Oh, ma è stato difficile! Sei un grande. Oh, oh! Mi chiamiamo. Ecco, hanno fatto spawnare due talebani vicino a me. Eh, di cui uno ero io. Eri tu? Sì. Ma questo come è facile? Sì, ma mi sono fatto ammazzare proprio da cretino. 31 secondi. Dove? Dove sei? Dai, fatevi fare un'ultima kill. Se ce la faccio o se no mi killano a me. Ma perché mi ha dato la pistola? Eh, perché quando l'ha visto... ...tiene solo la pistola. Fatevi fare una kill, una sola. Voila! Fan bro, ah non l'ho fatta io. Abbiamo vinto, voilà! Allora, usciamo dalla partita, dai. Tanto adesso vediamo un po' se droppano qualcosa e poi... Eh, no. Non ci ha droppato a noi. Va bene, io esco. Vado... Con la menù principale. Allora, ragazzi, dai. Questa qua è stata una delle partite che forse, boh, volevamo registrare. O una partita sola, dai. Vediamo un po' se sono piaciute. Magari possiamo fare altri video. O magari anche un live, visto che possiamo fare anche i live. E... Niente. Speriamo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace, ma commentate, come al solito. E se volete iscrivervi al canale, ci farà molto piacere. Penso sia a me che a... Oh! 8.98 Oh, è bellissimo, ma ci metto due ore a parlare, oh. Dai, ragazzi. E... Rifacciamola. Da Mr. Tyke. Oh, vedi che ci metti due ore? Da Mr. Tyke. E? 8.98 Dai, per oggi è tutto e... Ciao a tutti, ragazzi! Ciao, ciao, ragazzi!